Nel 2022 le donazioni in ASL 5 sono calate di circa il 3% rispetto all'anno precedente così come vi è stata riduzione dei candidati donatori meno 18% e dei nuovi donatori meno 25%. A livello provinciale si è comunque non solo mantenuta l'autosufficienza ma anche continuato a contribuire a quella regionale. Sono i dati riportati dall'Avis Pezzina che afferma i numeri ci impensieriscono e devono servire da ulteriore stimolo per mettere in campo iniziative di coinvolgimento dei giovani il cui contributo è fondamentale per il fisiologico turnover di donatori e collaboratori all'interno dell'associazione. Per questo motivo Avis non si dà per vinta e mette in campo l'iniziativa Un Polmino per Avis acquistato con il contributo di Fondazione Cari Spezia nell'ambito del bando aperto e che darà l'opportunità da questo mese ad Avis provinciale La Spezia di poter operare con un nuovo pulmino. Il veicolo servirà per il trasporto di sangue e plasma e garantisce il proseguimento delle attività istituzionali in sicurezza ed in linea con tutti gli standard qualitativi richiesti. In mezzo sarà operativo su tutta la provincia Spezzina per gli spostamenti in occasione delle raccolte di sangue presso unità di raccolte di supporto all'auto emoteca per le raccolte mobili. L'aspetto logistico è fondamentale, concludono ad Avis, per il tipo di supporto che diamo, complementare a quello presente presso i centri di raccolta ospedalieri, ampliando la gamma dell'offerta donazionale, muovendoci verso le esigenze del cittadino donatore, che è sempre più spesso costretto a ritagliare con difficoltà le proprie disponibilità di dono tra esigenze lavorative e esigenze familiari.